Gli ultimi dati che abbiamo avuto dall'Istituto Zooprofilatico Veneto sui casi che noi abbiamo siamo intorno al 79% e abbiamo questo direi triste primato. Omicron 5 è la variante che in questo momento colpisce maggiormente nella marca. La percentuale di contagi sfiora l'80%, solo la settimana scorsa aveva superato di poco il 50%. La nota positiva, almeno per ora, è che la pressione ospedaliera rimane sotto controllo. Lo dico con estrema cautela, sono tre giorni che abbiamo 140 persone ricoverate. Abbiamo due persone in terapia intensiva a Treviso e una persona a Conegliano. Si tratta di persone che avevano altre patologie o che non avevano completato il ciclo vaccinale. A dimostrazione che il vaccino serve per evitare di essere ricoverati e per evitare anche il long covid, che spiega Benazzi, può dare problemi pesanti. Intanto da oggi è scattata la possibilità per gli over 60 di effettuare la quarta dose. Oggi nei centri si accetta la vaccinazione anche senza prenotazione, ma da domani è importante iscriversi nel portale per evitare code e disagi. Ribadisco che si deve fare il vaccino. Abbiamo la possibilità dei nostri centri come andare anche nelle farmacie del nostro territorio, che faranno anche loro le vaccinazioni. Venerdì incontro anche i medici famiglia per proporre loro la possibilità di fare le vaccinazioni anche loro, per ampliare lo spettro in modo tale che così il cittadino ha più punti dove andare senza far code e la disponibilità soprattutto vicina, perché le farmacie sono capilari nel territorio. Per tutti gli altri si attende l'autunno, quando arriverà il nuovo vaccino che dovrebbe andare a coprire queste varianti e che sarà disponibile anche per gli anziani e fragili che hanno fatto la quarta dose. In linea di massima da quello che ci sta dicendo anche l'AIFA, eccetera, dovrebbe essere tra settembre e ottobre. Quindi tutti gli altri dovranno fare, chiaramente le persone a rischio immagino, il vaccino come sapete non è obbligatorio, faranno questo nuovo vaccino che andrà a proteggere ovviamente per quanto riguarda le varianti.